Siete tutti traditori dell'impero, sarete interrogati, torturati, mi direte i nomi di tutti i vostri alleati e poi morirete. La nostra morte convincerà altri a ribelli... Le vostre esecuzioni pubbliche serviranno da monito per il resto della galassia, ma non fermeranno la ribellione. Lord Vedr, occupati del ragazzo. Ti ho addestrato bene, ma hai ancora molto da imparare. Non hai più niente da insegnarmi. Alla prossima Sì, uccidilo. È sempre stato un debole. Uccidilo. Potrei prendere il posto che meriti al mio cospetto. No! Aiutalo! Tu eri destinato a distruggermi. Fallo. Arrenditi alla tua ira. Ormai è finito. Lascia perdere. È un trucco. È più forte di quanto immagini. E merita di morire per ciò che mi ha fatto. Può darsi. Ma se lo distruggi sfogando la tua ira, tornerai al punto di partenza. Porta Bailey e gli altri lontano da qui. Io vi seguirò. Vai! Presto! Proteggi i senatori. Allora! ini! A presto! E' morto. Allora adesso è ancora più potente. Il suo compito era annientare i ribelli. Il suo sacrificio non farà che incoraggiarli. Ma ora sappiamo chi sono. Li troverò e li annienterò tutti. Come ha sempre voluto, maestro. Dovrai essere implacabile, Lord Vader. Se anche un solo ribelle riuscirà a sopravvivere, questa alleanza che abbiamo creato sarà... la nostra rovina. Siamo pronti a finire ciò che lui ha iniziato? Finalmente... l'alleanza ribelle è nata. Qui, stanotte. Serve una bandiera che ci rappresenti. Un simbolo. Un simbolo di speranza. La forza scorre potente in lui. Hai sempre saputo chi fosse, vero? Lo sospettavo, sì. E perché ci hai aiutati dopo quello che avevamo fatto? Quando lo vidi al locale, tra tutti i suoi pensieri oscuri, avevo notato un barlume di luce. Un residuo di purezza a cui si è... sempre aggrappato. Cosa? Tu. Cosa? 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 Cosa?